A vent'anni di distanza riecco il derby della Madunina nelle semifinali di Champions League. Milano si è ripresa all'Europa. Nel ritorno dei quarti di finale l'Inter al Meazza pareggia 3-3 contro il Benfica e già forte del 2-0 maturato a Lisbona la settimana scorsa raggiunge i cugini del Milan tra le magnifiche quattro del vecchio continente calcistico. Ora le due milanesi si sfideranno per centrare la finalissima di Istanbul. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Real Madrid e Manchester City. La squadra di Guardiola pareggia 1-1 a Monaco contro il Bayern e passa in virtù del 3-0 dell'andata. In Baviera ospiti in vantaggio con il bomber Haaland raggiunti su rigore da Kimmich. Grazie a tutti! Grazie a tutti!